Liam, il Verona ha preso un buon punto contro il Bologna. Che partita è stata difficile ma alla fine è premiata da questo risultato? Sì, oggi è molto difficile contro una squadra, fortissimo, ma noi in campo 10-10 milioni. Non avete mollato un centimetro, avete tenuto la mentalità giusta anche quando siete rimasti con un nome in meno. È stato lì che il Verona è riuscito a strappare questo risultato? Sì, ma nel ritiro noi correremo tanto per partita così. Tutti in spogliatore sono molto contenti con questa partita. Ti dispiace un pochino perché il Verona in parità numerica poteva giocarsela? No, ripetiamo, oggi è una partita molto difficile ma molto molto contento. Ma adesso la partita è finita e la testa su Lecce la prossima settimana. I tifosi del Verona ti vogliono sempre molto bene? No, i tifosi qua sono molto molto bene, la curva mi piace, mi piace tanto.